Benvenuti su Meteo Giuliaci, il tempo previsto per domenica 19 marzo. Bene bel tempo a parte un po' di nuvole al centro nord perché l'anticiccolone delle Azorre finalmente inizia a ritirarsi dall'Italia e quindi lascia più spazio alle perturbazioni atlantiche le quali cominceranno a scendere di latitudine avvicinandosi alle Alpi ma influenzando anche gran parte del centro nord. Ecco quindi le nuvole che vedremo nella giornata di domenica sulle Alpi, sulle Venezie, sulla Toscana, Lazio, Campania e Sardegna e qualche nevicata sulle Alpi di confine, in particolare sul Brennero. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in deciso ulteriore rialzo sulle regioni di nord-ovest e sull'Emilia per due motivi, innanzitutto sulle regioni di nord-ovest perché le correnti atlantiche da nord-ovest attiveranno nel versante padano venti di Fenn appunto nella giornata di domenica, quindi un deciso rialzo termico con massime di 23-24 gradi, mentre le stesse correnti atlantiche attiveranno un vortice di bassa pressione su Ligure il cui venti di Libeccio investendo i rilievi Tosca e Emiliana genereranno venti, diciamo, appennemici di caduta caldi sull'Emilia e quindi anche sull'Emilia temperature massime intorno a 23-24 gradi. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Maria Giuliaci.